Astro, una vittoria fondamentale per regalarsi un sereno Natale e anche buone feste in generale, no? Sì, l'avevo detto ieri, insomma, quello era un obiettivo importante, non primario, perché comunque la cosa primaria era portare a casa i tre punti contro una squadra per nulla facile da affrontare, sapevamo quale è la classifica, oltretutto per l'ennesima volta abbiamo giocato con dei risultati che sapevamo soprattutto del Sant'Arcangelo che è andato a vincere a Pordenone, però era importante la vittoria, la vittoria è una partita non semplice, assolutamente non semplice un primo tempo abbastanza bloccato da entrambe le parti, noi timorosi appena abbiamo sbloccata questa squadra ha cambiato totalmente l'atteggiamento ed è quello che sto cercando di inculcare piano piano, di ritornare quelli di prima, di attaccare, di offendere, però alle volte non è semplice per oggi alla fine siamo contenti perché dopo potevamo fare anche un altro gol e tutto, insomma, in ripartenze sappiamo che siamo bravi e le abbiamo sfruttate al meglio. Visto che in un momento di sofferenza ha giunto un attaccante come Sumare al posto di un centrocampista Ilari e la mossa ha dato forse la sveglia alla squadra. Guarda, in settimana abbiamo lavorato con due sistemi di gioco, il 3-5-2 e comunque eventualmente il 3-4-2-1 ed eravamo pronti per fare anche quel tipo di situazione, pure se la partita non era nei binari migliori, però volevo rischiare qualcosa e ci è andata anche bene, i ragazzi sono stati molto bravi ad applicarla subito e dopo invece ho aggiunto un centrocampista come Anamadio che ci ha dato equilibrio in mezzo al campo. Barbuti gol e assist, Sumare e spunti importanti che hanno dato in là ai gol, Anamadio ha giocato a mio avviso 20 minuti alla grande. Ma assolutamente, sono tre cose che hai detto che è la realtà, non solo in tuo giudizio, nel senso proprio è stato evidente dove Barbuti ha fatto bene il gol, poi deve fare quello. Sumare è in spazi aperti, è un giocatore che comunque magari è un po' ruffone tante volte, ma ti crea delle situazioni di superità numerica e Stefano lo conoscete meglio di me, quando si mette lì in mezzo al campo ed è equilibrio, ma alla sua non è una sorpresa, la sua è sperare che veramente il 2018 ci regali a noi, a lui, insomma lo stare meglio e dare continuità, è solo quello. Le feste sì, ma anche un momento di riflessione in ottica mercato. Sì, c'è ancora una partita, non è che la facciamo noi, la fanno gli altri, vediamo cosa succede, ma le idee le avevamo chiare anche prima di questa partita e comunque sia quello che sarà il mercato. Vediamo, sicuramente questa vittoria ci consente un attimino di stare un po' più sereni, però lo può stare veramente poco perché giocano gli altri, noi riposiamo, se succede un risultato positivo degli altri, lo avete visto, bravo, di nuovo ritorni nel calderone. Quindi va bene, prendiamo bene la nostra vittoria, dobbiamo crescere molto, però non è facile, le ultime partite in casa, anche a livello fisico, la tensione di nuovo di fare il risultato a tutti i costi, perché questa squadra quando, e l'ho detto più di una volta e lo ripeto, si ha l'opportunità di avere qualche punto in più, di essere liberi mentalmente, allora è una squadra che può fare un calcio sicuramente diverso, divertente e anche efficace. È il momento degli auguri. Auguri a te, a tutti voi, ai tifosi e grazie.